Mino, Mino parlava con tutti e due, eravamo vicino, più vicino Milan, poi loro, se mi ricordo bene, giocavano una play-off per andare in Champions League e loro dicevano aspetta, vediamo risultati, il risultato come va per capire la situazione. In questo momento il vicino ha capito, ha fatto tutto in fretta e hanno chiuso il deal prima di Milan perché si parlava tanto, si andava tanto avanti e al fine Mino ha detto chi è primo si firma e Inter era primo in quella situazione.